Torino si avvicina alla ripresa dei lavori post-vacanze estive. A Palazzo Civico si guarda molto al futuro, soprattutto alla luce dei progetti in corso e di quelli nella lista delle cose da fare. Sono tante le questioni da affrontare, osserva il sindaco Stefano Lorusso, che tra le principali ricorda i tanti cantieri che sono partiti e che stanno procedendo nei tempi e costi previsti, cosa non banale. E nel 2025, continua Lorusso, partiranno due grandi cantieri delicati, la pedonalizzazione di Via Roma e la nuova piazza Baldissera. Lasceremo una Torino diversa da come l'abbiamo ereditata, ma questo è un lavoro che richiede tempo, pazienza, determinazione e capacità di portare a termine i lavori. Tra le tematiche da affrontare ci sono anche questioni politiche, a partire dalla disponibilità della regione di costruire il nuovo piano sociosanitario in modo dialogico e su cui la città sarà partattiva. Torino poi in questi giorni estivi è stata protagonista dal punto di vista turistico. Sono contento di aver visto una città piena di turisti a dimostrazione che gli sforzi fatti stanno cominciando a dare frutti importanti, dando corpo all'obiettivo di mandato di dare strutturalità all'offerta turistica. Infine, in merito alla tematica carceri, afferma la situazione a Torino è estremamente preoccupante, ma non lo è da oggi. Abbiamo sollecitato il ministro Nordio perché quello che è capitato è figlio di una situazione che si trascina da tanto tempo. È un tema nazionale e auspico che alla ripresa dei lavori in Parlamento il Governo e le forze parlamentari possano trovare una sintesi su strumenti su cui penso che le forze politiche debbano identificare soluzioni. Bisogna intervenire su diverse linee d'azione. Il sovraffollamento, il personale addetto e la tematica delle politiche di reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti su cui penso si debbano fare investimenti decisamente superiori per affrontare la questione in maniera strutturale.